Si è concluso con una condanna a quattro anni di carcere e quattro assoluzioni, il processo in abbreviato scaturito dall'operazione denominata Triade, è svoltosi ieri al Tribunale di Locri. L'operazione in questione risale al marzo del 2009 ed è stata coordinata dal PM della DDA di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. Il GUP, Caterina Capitò, all'esito della Camera di Consiglio del procedimento penale, ha riconosciuto le responsabilità del sanluchese Domenico Pizzata, condannandolo, oltre alla pena detentiva, a pagare anche una multa da 18.000 euro. Nei confronti degli altri tre imputati, la Procura ha chiesto una condanna tra i quattro e i sei anni di reclusione, il tutto sulla base degli esiti investigativi dai quali si ipotizzerebbe un presunto giro di acquisto di droga che sarebbe avvenuto in Sicilia e in un secondo momento ceduto a soggetti residenti nel Catanzarese. Aspetto, tuttavia, su cui i legali della difesa hanno sostenuto la carenza di prova, attesa l'assenza del fascicolo degli inchieste dei tabulati o di documenti comprovanti eventuali a ganci di telefoni e celle riconducibili al territorio siciliano. A conclusione, il GUP ha dichiarato assolti tra imputati e il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'altro soggetto coinvolto. Nell'ambito dell'operazione erano stati anche sequestrati beni per 300.000 euro, tra somme contenute in conti correnti bancari, titoli di credito, polizze assicurative e automobili.